Furono 49 santi martiri, tra cui 19 donne, di Abitina, città dell'Africa proconsolare. In quegli anni, la vicenda si colloca tra la fine del III secolo e l'inizio del IV. L'imperatore Diocleziano aveva scatenato una dura repressione contro i cristiani obbligando il clero a consegnare i libri sacri e vietando le riunioni. Ma il gruppo di Abitina, guidato dal sacerdote Saturnino, aveva sfidato il divieto, riunendosi di nascosto per l'Eucaristia. Scoperti, furono arrestati e poi inviati a Cartagine dal proconsole Anulino, davanti al quale, durante gli interrogatori, tutti dichiararono di non poter rinunciare alla celebrazione domenicale. Per questo essi vennero incarcerati e martirizzati, alcuni furono giustiziati, altri, forse, morirono di fame e per le torture della prigionia.